Ancora una tragedia lungo l'autostrada della Sole, un drammatico schianto attorno alle 11.30 di questa mattina tra Monte San Savino e D'Arezzo in direzione nord, nel quale ha perso la vita un 24enne. Al momento del violento impatto, il giovane si trovava alla guida di un furgone che si è schiantato contro un tir, rimanendo schiacciato. Il 24enne è rimasto inchiastrato nell'abitacolo del furgone, è stato estratto dai vigili del fuoco del comando di Arezzo, intervenuti assieme a 118 e gli soccorso. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto preoccupanti, gravissime le lesioni riportate, risultate poi fatale. La morte è sopraggiunta dopo che il 24enne è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale San Donato di Arezzo. Il camionista invece è stato portato in codice giallo al pronto soccorso a retino, è stabile e fuori pericolo. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di legge per verificare le cause dell'incidente e il personale della società Autostrade. Chilometri di coda infine si sono formati subito dopo l'incidente.